Ciao, già sei. Come ti chiami? Mi chiamo Matteo. Matteo, ma in francese come ti chiami? Mathieu. Mathieu, mi hai detto prima che parli inglese, no? Sì. Ma di più parli italiano. Sì. Da dove sei? Dove vivi? Oh, vivo a Marsiglia. A Marsiglia? Ma bellissimo. Da quando? Since. Since? Da? Sei nato, no? Sono nato a Marsiglia. Ah, bene, capisco. In 2003. Bene. Allora, è più difficile per te parlare italiano da inglese? Sì. Perché? Perché è molto... Più difficile? Sì, più difficile in italiano per me. Ti piace di più inglese o italiano? Inglese. Inglese. Allora, te ringrazio molto, eh? Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ah, aspetta.